32 squadre e 800 bambini. La settima edizione della Champion Baby Day può registrare solo numeri in crescita. La manifestazione è riservata alla categoria Piccoli Amici, Bambini dai 5 agli 8 anni, delle varie scuole calcio organizzate dalla Scuola SD Football Castri e il patrocinio WISP, Comitato Provinciale di Lecce, in collaborazione con la Regione Puglia e Amministrazione Comunale Castri di Lecce, FIGC di Lecce, ha visto la partecipazione di numerosi bambini provenienti da ben 32 società della nostra Regione. Una manifestazione organizzata dalla Football Castri che ormai da 7 anni organizza questa grossissima manifestazione che ormai è a livello regionale e conosciutissima, nel livello salentino porta 32 società. L'anno prossimo, come abbiamo annunciato, questa manifestazione la inseriremo nel calendario nazionale delle manifestazioni della Lega Calcio e della WISP e quindi parteciperanno squadre da tutta Italia. Questi sono dei giochi dove tutti i bambini ci trasmettono il loro coraggio, la loro passione del vero calcio leale, dove nessuno vincerà niente, ma tutti quanti coloro che hanno preso parte a questa manifestazione, sicuramente oggi ogni bambino di loro sarà un campione per questa manifestazione. I partecipanti si sono cimentati in varie attività, gare, ludico, motorie e partitele di calcio dove i bambini si sono confrontati fra loro. Alla fine tutti i ragazzi sono stati premiati con trofei, medaglie e gadget proprio nello spirito della manifestazione che vuole sottolineare l'importanza dell'evento sportivo come momento di crescita non solo psicofisica ma anche e soprattutto come mezzo di educazione e formazione dei giovani.